Il business principale della Calcagni SRL è di essere al servizio del mondo della bellezza, in particolar modo dei parrucchieri e delle estetiste, nonché anche abbiamo una vendita al pubblico per quanto concerne il discorso della profumeria e i cosmetici. La complessità dell'azienda di Calcagni SRL è proprio che abbiamo diversi livelli di interlocutori. Siamo stati fortunati perché abbiamo scoperto Runtime Solutions che ci ha fatto conoscere SAP Business One che per noi è stato un passo molto importante poiché ci ha permesso di riorganizzare l'azienda in maniera molto più razionale e più funzionale. Attraverso SAP Business One siamo riusciti più che altro ad inquadrare bene i reparti, a stabilire dei processi precisi, lavorare in maniera molto più pulita e fluida, evitando una marea di errori ma soprattutto evitando gli sprechi di tempo. Attraverso SAP Business One e Runtime Solutions stiamo potenziando la digitalizzazione della nostra azienda, riusciamo a dare un servizio migliore e più esclusivo ai nostri clienti. Abbiamo cambiato anche il centralino, abbiamo preso un centralino in cloud per permettere l'integrazione tra SAP Business One. Gli sistemi si parlano e presentano già quella che è la scheda del cliente e possiamo prontamente prendere e ricevere l'ordine. Salesforce Automation, questo è un altro aspetto che a noi ha cambiato molto perché gli ordini arrivano direttamente dagli agenti. Anche la fase di picker si è evoluta e ha subito dei notevoli miglioramenti sia a livello di composizione e preparazione dell'ordine sia a livello di precisione nell'ordine. Un altro aspetto fondamentale è l'integrazione con il mondo online, con l'e-commerce. SAP Business One in questo ci dà una grossa mano per integrare appunto i sistemi sia dal lato B2B sia dal lato B2C. Runtime Solutions, tu sei dimostrato veramente bravo a seguirci e in assoluta trasparenza abbiamo creato un ottimo rapporto di lavoro. Ci aiutano a trovare la soluzione migliore ed insieme riusciamo ad arrivare all'obiettivo. La collaborazione con le persone di Runtime mi hanno guidato nelle scelte, mi hanno aiutato a prendere decisioni migliori. SAP Business One ci permette di essere dinamici e sempre aggiornati. Se vuoi crescere devi comunque utilizzare un software che ti permetta di farlo e secondo me SAP Business One è il numero uno in assoluto.